Un nuovo incontro pubblico nel Palazzo del Consiglio di Via Verdi, promosso da gruppi e associazioni civiche per discutere del bilancio comunale in occasione della manifestazione cittadina di sabato 14 contro il debito storico del Comune. Fra i relatori la consigliera del Partito Democratico Valeria Valente e l'ex assessore comunale al bilancio Riccardo Realfonso. Noi possiamo contrattare e del resto il governo non si è mai tirato indietro, è sempre stato al fianco della città, lo abbiamo dimostrato in tante circostanze e il governo ha confermato la volontà di essere ancora una volta al fianco della città, riconoscendo come era giusto che fosse la disponibilità a coprire parte di quel debito. Il punto è che De Magistres per non avere fatto la scelta di pagare il debito, di anticipare questo pagamento come era tenuto a fare in base alla legge e poi rivalersi per quota parte nei confronti del governo centrale ha costretto la città, l'amministrazione, le tasche dei napoletani a pagare esattamente il doppio della cifra del debito iniziale. Noi oggi paghiamo una sanzione, la città è costretta a pagare una sanzione di oltre 80 milioni perché il sindaco ha scelto di taroccare i bilanci, di non iscrivere né quel debito né tanti altri debiti fuori bilancio, compresi alcuni addirittura veramente di entità strana tipo per esempio il fatto che il comune non ha pagato per un paio d'anni le bollette della luce, si era scordato di iscriverle in bilancio, è stato costretto a farlo in ritardo quindi quando ha presentato il rendiconto del 2016 ha evitato di scrivere una cifra enorme di debiti fuori bilancio, questo ha portato a una sanzione importante e significativa che oggi sono costretti a pagare i cittadini. In risposta alla manifestazione di Piazza Municipio il Partito Democratico e la Lega saranno in Piazza Trieste e Trento, mentre Fratelli d'Italia condurrà un'iniziativa separata in largo berlinguer. Per dire basta al cattivo governo di questi anni, di questi sette anni, che hanno fatto triplicare il disavanzo delle casse del comune, raddoppiare il debito per scelte di cattiva amministrazione, per l'incapacità di riscossione dell'ente rispetto alla quale non c'è mai stata un'inversione di tendenza e un impegno serio del sindaco e della giunta per la sua incapacità di gestire trasferimenti pubblici che non solo vengono tagliati molto meno di tutte le altre città, ma che soprattutto non vengono utilizzati appieno dall'amministrazione e anche per la sua incapacità di mettere e di utilizzare al meglio il patrimonio immobiliare, che è sicuramente una delle principali fonti di patrimonio e di ricchezza di un ente. Ecco, per dire basta a questa cattiva gestione, che poi significa cattive e pessimi servizi offerti ai cittadini con tasse altissime, per dire basta all'incapacità di perseguitare semmai i cittadini onesti, ma chiudere l'occhio verso i cittadini che eludono le tasse perché si riscuote sempre meno e non si combatte l'evasione, per dire basta a un'amministrazione che fondamentalmente premia i forti e penalizza i deboli, per dire basta a un sindaco che usa il patrimonio, la macchina comunale e la gestione della città a proprio uso e consumo, identificando se stesso con la città e con Napoli, noi domani saremo in piazza. È un grido di dolore per dire basta, allora questo lo possiamo fare insieme ad altre forze anche distanti politicamente da noi, sì, con ovviamente l'obiettivo di porre fine a questo ciclo, poi ognuno per la propria strada a costruire l'alternativa a questo sindaco, la mia alternativa non sarà mai né quella di Cantalamessa né quella di Fratelli d'Italia.